ciao a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di harker survival devolved vabbè ormai lo sapete scusate raga se vi ho fatto aspettare tanto ma purtroppo ho avuto un grande affare dovevo far uscire ieri insieme al video di rake come vi avevo detto ma poi c'è stato un imprevisto quindi niente è uscito oggi l'episodio comunque raga sono sicuro che riuscirò appunto nell'episodio di oggi a farmi perdonare perché veramente vi dico solo questo triplo addomesticamento quindi non ci possiamo lamentare boh visto che vi ho già fatto aspettare tanto non vi rubo altro tempo vi lascio il video sapete cosa fare e noi ci vediamo fra un decimiliardesimo di secondo ciao ok ragazzi eccoci qua con il nuovo episodio di harker survival devolved allora perdonate l'attesa raga ma sono successi un casino di cose fuori registrazione e ora vi faccio vedere allora innanzitutto vi ricordate che avevamo preso lo stegosauro qua e infatti adesso inizieremo ad domesticarlo perché la famiglia è quasi scesa a zero ecco però però guardate qua ecco avrete già notato roba strana tipo la muraglia ecco guardate un po qua che cosa è successo eh sì c'era questo stronzone di livello 120 che se ne girava qua belle tranquillo cioè volevo spaccare la gabbia per entrare a mangiarsi lo stego all'inizio lo stavo per uccidere con l'aquila poi però cioè ho notato il livello ho detto eh no ciccio tu vieni a casa con me così l'ho steso l'ho addormentato ho fatto qua la muraglia per impedirgli di uccidere lo stego mentre mentre lo addormentavo come vedete lo sto tenendo addormentato gli sto dando la carne marcia perché sia domestica con la carne marcia e grazie a dio fa anche abbastanza in fretta quindi adesso raga mentre questi due stronzoni si addomesticano io vado a craftarmi i repellenti perché sì vi faccio vedere anche la serra che è cresciuta e come potete vedere lì c'è un'altra novità eccolo qua sì ho addomesticato un porcedu e non notare come l'ho chiamato per ovvie ragioni sì l'ho chiamato così e perché mi sono addomesticato il porcellu mi sono addomesticato il porcellu raga perché vi faccio vedere se voi gli fate mangiare le steambacche queste bianche lui scagazza come se non ci fosse un domani no così ecco qua e così infatti produrre concime cioè tra tra il porcellu galeazzi qua che cagava e umilio che a sua volta cagava ancora di più sì perché caga più di un maiale umilio ormai lo sappiamo fra tutte e due cioè voglio dire ecco vedete appunto craftare il concime qua è stata una passeggiata infatti come vedete è già cresciuta un bel po' di roba io ho già raccolto un bel po' di cose vedete qua ce ne sono solo due perché le ho appena raccolte ho raccolto un bel po' di ortaggi qua insomma e adesso dovremmo essere in grado di andarci a craftare qualche repellente un'altra novità che vi volevo far vedere raga riguarda la casa se vi ricordate nei precedenti episodi avevo detto che avrei cercato delle mod per diciamo arredare abbellire la casa giusto ecco già guardate qua fuori potete vedere queste due piantine qua ecco qui buongiorno ole ecco qua sì l'ho arredata meglio che ho potuto come vedete qua abbiamo il nostro angolo di solitudine dove un miglio si va a sedere a fare i pensierini quando è triste triste con sì dovrebbe essere un corvo ma è un argentavis in miniatura ma non importa ecco qua abbiamo questo salottino con l'angolo bar come potete vedere i trofei che sono una ficata e sì questo qua veramente abnorme cioè alla faccia porco cane io quando l'ho appeso quando l'ho craftato per appena lo pensavo fosse molto più piccolo ma vabbè ho detto fa figo comunque che cacchio stiate facendo vedo me lo spiegate che cacchio ci fai sul tavolo vuoi essere cucinato ok rosetta invece si è messa a capo tavola come dire sono il boss sono il capo famiglia è certo vabbè qui abbiamo la nostra tavola qui abbiamo il nostro angolino qui al al camino ecco qua questo ovviamente è il trono di umilio e questo è quello degli ospiti ma quali ospiti che siamo soli chi se ne frega non importa dettagli ecco qua vedete si spegniamo che consumo la legna si notare il trofeo di t-rex è una ficata assurda lo so grazie vi faccio vedere la cucina ecco qua vedete cioè alla fine questi qua raga fungono sempre da armadi ma cambia solo la texture che secondo me ci sta moltissimo in una cucina questo qua ovviamente raga da questi banconi anche qua al bar un attimo che c'è il dilo che vuole una birra eh si si tolgo e qua serviti pure vi faccio vedere ecco qua potete craftarvi scusi un attimo potete craftarvi altre robe vedete tutte queste cose ci sono le varie sottocartelle anche i lampadari qua con le candele e tutto che poi andrò ad aggiungere perché fanno veramente fico e al piano di sopra vi faccio vedere aspettate aspettate adesso vi faccio vedere anche quello ho fatto dei letti un po' più decenti che hanno le texture molto più carine il mobiletto anche questi qua funzionano tipo dalla casse e da armadi vabbè questo è il comune armadio di sempre e qua abbiamo questa piccola scrivania e anche qua vedete qua potete craftarvi le teste di dinosauri appenderle come trofei e le altre varie robe c'è un fuoco da campo un po' più grande ci sono tipo delle gabbie queste cose qua c'è un po' di tutto insomma io ve la consiglio questa mod se volete arredarvi la casa perché è molto carina ecco guardate qua che figata qua ho messo i tre i tre signori diciamo dei carnivori il t-rex lo spinosauro il gigantosauro qui abbiamo alice e veloci raptor qua abbiamo l'angolo l'angolino di studio di umilio vedete stava studiando stava studiando t-rexologia ad esempio e qua guardate che bello questo il modellino in scala ridotta dell'isola c'è anche dell'isola di scorge c'è anche un modellino potete craftarvi il modellino anche dell'isola di scorchurf e di the center io ho fatto solo questo adesso perché per craftare gli altri poi non avevo più risorse e non volevo neanche sprecarle ulteriormente ok raga allora adesso volevo dirvi una cosa in questo episodio avevo intenzione di fare roba veramente epica avevo intenzione di addomesticare oltre ai due stronzoni in gabbia anche la lamanta se riusciamo e poi raga vorrei iniziare ad addomesticare un altro dinosauro allora vediamo di prendere adesso già le scorte che avevo c'è guardate quanta roba ho già coltivato raga veramente incredibile quella serra è stata una tocca sana proprio diciamo 7 e vabbè speriamo di farci bastare queste 7 non so uno quanto dura va bene che qua con il tavolo da lavoro ne crafta di più quindi non mi lamento eh infatti no va bene va bene va benissimo allora prendo un po' di bacche dal brontosauro che gliele diamo allo stego mi dia un po' di roba lei soprattutto queste guardi me le dia tutte tanto lei ha inventario strapieno di roba quindi può anche farne a meno e giustamente calano le tenebre calano le tenebre quando devo fare cose va bene arc teniamoci la torcia accesa ahhh porco cacchio tutte le volte eh tutte le sacro sante volte sto facendo cose e cala il buio va bene non importa toh questo ti dovrebbero bastare ciccio dammi questi 40 narcotici ok andiamo a vedere lo scorpione perchè quello si sveglia oh e botta di lag incredibile ok lo scorpione si è domesticato intanto perfetto allora dammi i narcotici e ti do la sella adesso te sicuramente non riuscirai a muoverti perchè peso troppo ah no ok ah no no si muove abbastanza velocemente mi si è salito al livello 173 estigeizer allora lo scorpione appunto col suo veleno è in grado di addormentare gli animali vediamo se riusciamo a stendere quella tigre là sperando che non sia di livello troppo alto venga venga andiamo un po' no mi sta che la uccidiamo addirittura vabbè ci può stare ci può stare voglio dire ok mi è già livellappato bravo e io ti aumento va ti aumento la vita ok c'è un branco di tigri spero di non rischiarmela no vabbè sono una coppia di tigri che stanno già facendo a botte con un'aquila io ne approfitterei per unirmi alla festa vai 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 ok l'aquila c'è andata tra un po' ci vanno anche le tigre vai 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 così vai vai spacca tutto vai 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 ok mazza bello potente ok direi che lo scorpione di livello 170 passa non se l'ha affatto male complimentoni ciccio ok tacchiappo e ti porto direttamente là ok ti parcheggio qua in mezzo agli altri carnivori là ecco qui a posto e della serie si sono un pirla perché ce l'avevo qua da parte la pelle con altri 65 narcotici buttati qua così a caso va bene facciamo finta di niente orcocane devo mettere un po' d'ordine nell'inventario diciamo nell'archivio vai stella stella si stella per roste cos'ha si me la crafta per favore me la può craftare vale e anche questa è pronta ah finalmente ok raga facciamo che aspetto che ok che faccia giorno a sto punto così almeno ci capiamo meglio tutti tanto non dovrebbe più mancare molto oramai e ci vediamo fra un taglio ok finalmente sta albeggiando sta ancora piovendo ma non importa dettagli lo stegosauro come vedete intanto si è già domesticato quindi ah eccoci qua ciccia ah si che sei femmina è vero la e la ammazza quanti racconti ci avevo fatto ok ecco qua lo stegosauro ah finalmente il mio arbivoro preferito perché ci ho messo tanto a a domesticarlo ok ti sei sglicciato si ok allora vediamolo all'opera allora lo stegosauro oltre a essere buono in battaglia non è affatto male anche per la raccolta di materiali cioè di risorse perdonatemi vi faccio vedere qua c'è la iena alfa intanto ah si è vero che anche le iene fanno vanno branco un po' come i lupi e gli allosauri ecco guardate qua c'è porco cane 47 narcoberry con un colpo di coda e ti livella la velocità della luce guardate aumenta un po' di vita a sto giro e ciccio i semi per adesso buttameli guarda perché tanto ne ho raccolti il disastro ok il massimo su cui possiamo testarlo ah no ok c'è un velociraptor suicida perfetto vale di livello 12 tra l'altro ok stavo per testarlo contro lo scorpione laggiù non so se lo vedete ve lo inquadro un attimo con il cannocchiale eccolo lì livello 4 vabbè minchia lo sciottiamo ok opalala mi scusi signor raptor di livello schifo lei si doveva fare i cavoli suoi avrebbe evitato di morirci come un pirla no vabbè direi che sullo scorpione di livello 4 non vale neanche la pena testarlo cioè proprio sarebbe inutile ok raga io vado un attimo a parcheggiare la signorina stego e come la chiamiamo tra l'altro allora aspetta sei femmina stegosauro c'hai ste placche qua hai la coda spinata spine guarda ti chiamo spilla per adesso poi se mi viene in mente qualcosa di più adatto lo cambiamo ma per adesso spilla mi pare più azzeccato la nostra spilla eccola qua piano piano mi raccomando con i suoi tempi ok ce l'abbiamo fatta il parcheggio più lungo della vita ok allora il repellente ce l'ho devo prendere adesso un po' di carne allora provo a prendere una carne di montone e faccio la prova faccio la prova a vedere se la manta la mangia sperando di si qui sta già per scadere tutto però dammi questa che è un po' più fresca ah c'è un iscritto che l'altra volta mi ha detto speriamo che non ti che Arca non ti fa la bastardata magari da quel prossimo episodio che la vuoi domesticare lei si tolga dalle palle gentilmente che mi sta dando fastidio ecco vado a fare compagnia ai pesci letteralmente mi ha detto speriamo che non ti fa la bastardata che ti scappa in qualche modo io te lo dico a te che mi hai lasciato quel commento se è scappata io disinstallo Ark ok vediamo un po' 100 euro che è scappata ok basta disinstallo Ark l'episodio finisce qui ragazzi grazie per aver sostenuto la serie e lo scorpione rompimaroni che è tornato per vendicarsi guarda mi sfogo sullo scorpione adesso mi sfogo sullo scorpione veramente ciccio prendilo però ecco qua adesso mi sfogo sullo scorpione e porco cane dai cacchio no che mi è scappata la manta maledetta no fanculo fanculo non me ne frega niente la vado a recuperare mi metto la muta da sub e la vado a recuperare ok sperando che nel frattempo non arrivino altri scorpioni e compagnia bella a trucidarmi l'aquila ok ciccio metti qua e metti qua e andiamo ok sono riuscito a trovarne una non so di che livello è onestamente non me ne frega poi raga già che c'ero ho ucciso un po' di meduse che ho preso un altro po' di biotossine vi faccio vedere eccola qua che serve sempre allora la manta mi sta seguendo forse si forse no non lo so allora adesso ti parcheggio un attimino qua vado fino lì intanto mi mostri il livello della signora lì livello livello 4 veramente di livello così schifo vabbè dai visto che tanto la dobbiamo usare solo per surfare e fare i fighi ci può stare allora ciccia continua a seguirmi tu eh si siamo veloci uguali dovrei riuscire a ingabbiarla proprio a culo ah là ce n'è un'altra non ho visto di che vabbè non importa eh facciamo una cosa perché se di livello un ciccinino più alto mi piglio quella là eh è livello 4 anche se non devo usarla per fare chissà che cosa però mi scazzo un po' un livello schifo così livello ah livello 36 e forse era quella dell'altra volta non mi ricordo più che livello era quella quella mi sta ancora inseguendo no ok mi ha lasciato perdere no ciccia non mi attaccare lo squalo però lasciami stare lo squalo che tanto non ti sta neanche cagando perché non gli fai niente l'ho messo pure in passivo ok no 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 mi attaccano lo squalo porco cane mi ha attaccato lo squalo mi ha attaccato lo squalozzo allora aspetta eh andiamo ti parcheggio qua veloce ti sparo sperando che poi caghi me ok che tieni pronta la paretina tu vieni qua ciccia entra dove è andata sparita la manta no perché è morta cos'è successo ma se mi stava inseguendo minchia che palle Ark veramente Ark sei una rottura di palle ok raga ne ho trovata un'altra mi stava seguendo senza neanche che me la accorgessi poi mi sono sentito pizzicare il culo è di livello bassino mi sembra 12 14 ma fotte sega oh accontentiamoci visto come stanno andando le cose porco cane se no poi non riesco più a fare niente davvero ok seguimi per favore seguimi no seguimi all'interno della gabbia per piacere vieni all'interno della gabbia cioè mi vogliono sempre trucidare tutti tu che mi devi trucidare a livello 24 se avevo letto 14 ok meglio allora ci può ancora stare dai ok mi stai seguendo si continua a seguirmi però non ti arrendere all'ultimo eh brava ecco adesso ti chiudo porco cane ti chiudo così vai vai e se esci fuori di lì in qualche modo mi incacchio eh io te lo dico chiaro e tondo mi incacchio ok ragazzi è l'alba di nuovo giorno come potete vedere io non ho ancora iniziato ad addomesticare la manta vi spiego perché bene allora mi racconto cosa è successo in questo taglio dunque provo a dare la carne di montone alla manta e non la mangia allora ho detto va bene proviamo con la carne normale carne normale non ne mangiava allora proviamo con il pesce non mangiava neanche il pesce allora mi sono detto che cacchio mangia sta cacchio di manta mi sono andato a informare su internet la stronzona la puoi domesticare dandogli solo due cose da mangiare ovvero ho i fiorellini rari che io al momento non ho oppure l'angler gel che lo prendi dai pesci lanterna tipo dagli angler fish appunto e quindi sono andato a fare stragi di angler fish con il crisbio di megalodonte e adesso siamo pronti per iniziare spruzziamoci il cosino addosso piano dobbiamo fare molto piano anzi fai una cosa guarda togliti le pinne che sei più lento almeno non ti avvicini alla velocità della luce piano adesso lentamente piano ok perfetto ok ok mi allontano ok si perché con l'angler gel facciamo molto molto prima perché se no gli diamo i fiorellini rari ci vogliono due milioni di anni ah io ero rimasto che mangiavano il pesce ste stronze e invece niente si vede che con gli ultimi aggiornamenti hanno cambiato io non lo sapevo porco cane ok puoi mangiare di nuovo piano eh piano non ti incazzare piano non ti incazzare piano ok aspettiamo che abbia di nuovo fame ancora no non mi devo neanche avvicinare troppo perché anche se ho il repellente se mi avvicino troppo si incacchia ok eh ci vorrà lo stesso un pochino di tempo mi sa perché ci mette un po' a scendergli la barra della fame a quanto pare ok speriamo che non ci voglia veramente troppissimo tempo raga perché come vi ho già detto vorrei iniziare a domesticare un altro dinosauro e ovviamente voi sapete che quando dico iniziare intendo che nell'episodio di oggi lo catturiamo lo addormentiamo e poi finiamo la prossima volta un po' come abbiamo fatto con lo stego insomma piano piano non ti avvicinare così umilio sei impazzito senti ciccia sai cosa facciamo intanto andiamo a casa a posare un po' di roba che non ci serve più guarda tanto tanto devo agire lì vicino alla riva quindi la bombola d'ossigeno e tutto me le posso anche levare per adesso notare che ho un'aura azzurrina tipo con il repellente addosso ok ragazzi che ci crediate o no la stronza era di nuovo scappata c'è il tempo di allontanarmi e lei non so come si gliccia male e riesce a scappare dalle pareti di nuovo a ingabbiarla e adesso di nuovo a rifare da capo l'addomesticamento veramente oggi questo episodio mi sta facendo venire i nervi a fior di pelle guardala lì tutta incacchiata lei ahhh zio billy perché veramente mi sono stufato e porco cane ce n'è sempre una toh mangia mangia posso domesticarla anche se è incacchiata bene non lo sapevo ok dai raga l'ultimo boccone ed è nostra finalmente dai toh maledetta rompicoglioni guarda e visto che sei veramente una testa di cavolo sai come ti chiamo aspetta un secondo aspetta un secondo però aspetta che mi annega un milio aspetta eh ok ho recuperato l'ossigeno allora guarda visto che veramente anche se sei femmina non me ne frega niente visto che sei una testa di cavolo e mi stai sui maroni personalmente guarda non me ne frega niente ti chiamo sgarbi oh visto che sei sgarbata ti chiamo sgarbi e che cavolo e pigliati sta crisbio di sella e non mi rompere più i maroni oh fammi vedere qua ok abbiamo la nostra tavola da surf dov'è pigliati l'anglargello e non mi rompere più i maroni maledetta cornutazza ok vediamola all'opera ok vabbè che adesso è pesantuccia e non è veloce vabbè cavolo considerando che ha tanto peso addosso è bella veloce cosa ho fatto cosa ho fatto ok volevo premere c invece ho premuto ok allora con spazio fa il salto cioè tipo vola ok fighissima sta cosa mazza se è veloce comunque anche con il carico alto va bene e con il destro fa qualcosa no così attacchi con la coda ok no sta cosa del salto è una figata non me l'aspettavo weee splash ok perfetto oh e la razza qua la razza barramanta l'abbiamo presa ok raga adesso iniziamo ad addomesticare quell'altro dinosauro ora vedrete qual è oh mamma mia i traumi i traumi alla faccia dei salmoni che cavolo è ok oh ok ok c'è uno spinosauro ce n'è uno piano piano ce ne sono due veramente fammi vedere i livelli allora quello là femmina di livello 51 e questo maschio 98 direi che va più che bene il maschio ammazza 98 scusi oh oh via 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 ok ok piano piano meno male che l'aquila mi regge i colpi eh no non mi direi che ti sei già glitchato male eh ok vabbè adesso attaccherai pesci sicuro no ah ok no si perché si nutre prevalentemente di pesce lo spino ah ok sta attaccando i pesce adesso non mi toccare l'acqua che mi disarcioni cosa raga mi ha spawnato il titanosauro qua davanti non ci credo male alla vita non c'era qua prima quando siamo arrivati o sbaglio o sono io che non ci ho fatto proprio caso probabile raga il titanosauro dietro casa minchia sarei tentato di provare a catturarlo ma quello da prendere da solo è praticamente impossibile però ci proverò eh un domani ci proverò ok cagami un attimo seguimi 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 io spero che tu non sia così imbecille da attaccare il titanosauro che ti fai vonshotare perché se veramente fai una roba del genere ti spacco la vita ce la fai sto giro a seguirmi? no se l'hai presa con un parasauro va bene hai mangiato anche il parasauro sei contento? adesso mi segui? ah bravo lascia stare il titanosauro eh non fare cazzate gentilmente te lo chiedo per favore non fare cazzate notare dove è finito il titanosauro certo che sti dinosauri sono veramente rincoglioniti eh non mi sorprende che si siano istinti cioè se erano così anche nella vita vera posso capire posso capire ma che deficiente ma dove stai andando cretino? ma vieni qua ma donna ma hai dei seri problemi? no no non sta bene sto qua sto qua ha dei seri problemi non sta bene no no sta molto male no ciccio alleluia eh ci hai messo un bel po' a capire come si usciva dall'acqua eh ma alla fine ci sei arrivato grazie a Dio meglio tardi che mai orcocane avevo il cargo che mi attaccasse l'amante e me lo uccidesse cioè appena domesticata se ci moriva dopo quello che ho proconato per riuscirci veramente era davvero la volta buona che disinstallavo il gioco ok lo stronzone finalmente dentro alla gabbia atterrami un momento tu che chiudiamo chiudi qua e chiudi qua fanculo lo metto alla cazzo ok vieni da questa parte bravo bloccati di nuovo nella trappola oh e addormentati in fretta adesso perché non ti sopporto già più brutta faccia la pirla oh mamma mia sti dinosauri no ciccio è in metallo quella gabbia non è riuscita a distruggere il gigantosauro ahia vuoi riuscirci tu? un mozzico me l'ha tirato però eh dai ciccio addormentati che veramente devo chiudere l'episodio devo ancora fare il montaggio e tutto e devo pubblicare il video ok sembra che stia tentando la fuga però forse dico forse ce l'abbiamo fatta oh alleluia si è addormentato oh pigliati tutta sta roba tieniti anche già alla sella anzi no questa me la tengo io che non si sa mai dormi dormi felicio che io vado a prenderti la carne così iniziamo l'addomesticamento ok raga io direi che chiudiamo qua finiamo l'addomesticamento nel prossimo episodio oh veramente di tutti i colori oggi eh però ne è valsa la pena perché alla fine ci sono scappati tre addomesticamenti oh ok raga boh adesso inizio già ad andare un pochino avanti con lui e quando l'addomesticamento sarà quasi finito avvierò di nuovo la registrazione così nel prossimo episodio assisteremo insieme al al taming diciamo del dello spinosauro nel frattempo sapete cosa fare quindi non sto lì a dirvelo e noi ci vediamo nel prossimo episodio spero ma beh ciao ciao raga alla prossima ciao